Buonasera a tutti, ringrazio i presenti che sono qui oggi pomeriggio, ringrazio naturalmente anzitutto l'Arcivesco di Milano, Sua Eccellenza Mario Delpini, che ci onora della sua presenza e che chiuderà col suo intervento questo incontro. Questo incontro che ha due ospiti, uno io lo conosco da tanti anni, è Mario Calabresi, che oggi è amministratore delegato e direttore di Cora, poi ci spiegherà anche che cos'è Cora, che è stato direttore di tanti quotidiani dalla stampa a Repubblica. E poi abbiamo la professoressa Sciarrone Aliprandi, che è sottosegretario in Vaticano. Allora noi ragioneremo oggi su un tema straordinario, che sono questi podcast di Don Luigi Giussani, che è stato qui professore alla Cattolica per molti anni. Ascolteremo dei brani e secondo me cercheremo anche di mixare suggestioni, emozioni e anche però ragionamenti che non valgono solo per alcuni, ma credo valgano per tutti nella società un po' frantumata di oggi. Comunque io non sono tenuto a fare prediche, ma solo a fare qualche domanda, a cui spero di avere qualche risposta anche un po' come dire che ci illumini. Allora prima di iniziare il nostro dibattito, che spero sarà agile, però come dire, cercando di darci dei contenuti, io vorrei chiamare qui al palco il Vice Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, l'Avvocato Cesare Pozzoli, per un saluto. Grazie. Buonasera a tutti. Ringrazio e saluto tutti voi a nome della Fraternità di Comunione e Liberazione e del Presidente Davide Prosperi, che purtroppo non può essere qui per un problema di lavoro che lo viene lontano da Milano. Saluto e ringrazio in particolare Sua Eccellenza, Monsignor Mario Delpini. Grazie davvero per la sua presenza e del contributo che ci vorrà dare alla fine di questo momento. Ringrazio anche l'Università Cattolica e il Chiarissimo Rettore per l'ospitalità e la collaborazione che ci sono state offerte per realizzare questo momento. E ringrazio infine i molti e numerosi studenti che vede occupare questa suggestiva aula, Magna, lo ricordava adesso Stefano Zurlo, carica di storia e di significato culturale ed educativo. Una partecipazione, quella di voi studenti, che significa molto e ci rende davvero contenti. L'idea all'origine dell'evento di oggi era proprio quella di offrire agli studenti di oggi, della Cattolica e di altri Atenei, l'opportunità appunto di andare a lezioni da Don Giussani, proprio nel luogo in cui egli insegnò e incontrò molti dei vostri predecessori. Tra questi, consentitemi, c'ero anch'io matricola di giurisprudenza proprio nel 1985, proprio in questi giorni, erano i primi giorni delle lezioni Don Giussani. Allora l'anno accademico iniziava a novembre. Don Giussani nel 1985 teneva le lezioni il martedì e ha tenuto la sua prima ora di lezione proprio in questi giorni, come dicevo prima. Per me e per centinaia di altri studenti che gremivano quest'aula, sia matricole che negli anni successivi. Ricordo un sacerdote, allora uno studente, oggi un sacerdote missionario in Russia, che aveva partecipato alle lezioni di Don Giussani per più di dieci anni, proprio qua. E poi Don Giussani si fermava sempre in affollati capannelli, dove noi studenti chiedavamo, dialogavamo e approfondivamo, con Don Giussani che spesso iniziava la lezione successiva con il suo ardore, la sua arguzia, partendo proprio da quelle domande, da quei dialoghi, riprendendo e approfondendo quanto si era detto la volta prima, un vero maestro secondo lo stile medievale dell'universitas. Ora ciò è possibile anche per voi giovani e per tutti noi, attraverso una modalità nuova e coinvolgente, che crediamo anche più vicina alla vostra sensibilità, grazie al podcast Il Senso Religioso, ma che esprime fedelmente quella stessa travolgente esperienza. Il podcast ripercorre i contenuti del celebre libro di Don Giussani, il più noto, Il Senso Religioso, per la prima volta dalla sua viva voce e raccoglie questi contributi dal 1978 appunto all'85. Si tratta di un'opera che la Fraternità ha realizzato per il centenario della nascita di Don Giussani, concluso poche settimane fa, che è stato prodotto da Cora Media e curato da Roberto Fontolan e Michele Borghi, che approfitto per ringraziare per il loro eccezionale contributo. Vi proponiamo dunque l'ascolto di alcuni stralci di questo podcast e un dialogo sulle parole di Don Giussani insieme ai nostri ospiti, che ringrazio vivamente per aver dato vita e aver dato la loro disponibilità. Un grazie anche a Stefano Zurlo, anche lui studente della Cattolica in quegli anni, per la conduzione dell'evento. Ci auguriamo che questo momento insieme possa essere non solo un importante momento commemorativo per Don Giussani, ma anche l'occasione di confronto con quella che possiamo definire una provocazione per il cuore di ogni uomo, come ascolteremo tra poco. Quella cioè di indicare un metodo per affrontare l'esperienza religiosa, un'esperienza, come dice Don Giussani, così decisiva per la vita. Grazie ancora a tutti e buon ascolto. Anch'io sono stato allievo di Don Giussani, però non mi ricordo che giorno fu la prima lezione, sinceramente non me lo ricordo. Allora adesso chiamo il direttore del luogo che ci ospita, il dottor Mario Gatti della Cattolica. Prego. Bene, hanno fatto gli organizzatori di questo incontro per la presentazione dei podcast Il Senso Religioso e a tenerlo nell'aula magna di questa università, che come già stato detto ha visto più di una volta Don Giussani in questa veste a professare e il suo magistero in quest'aula. Ringrazio anche i relatori che hanno accettato l'invito degli organizzatori che sono di casa in questa università. In particolare ringrazio per la sua presenza, Sua Eccellenza Monsignor Delpini. La nostra università ha visto presente Don Luigi Giussani in diversi modi dal 65 all'inizio degli anni 90. Qui Giussani ha contribuito alla formazione di migliaia di studenti e in particolare ha tenuto i corsi di introduzione alla teologia proprio sul senso religioso, oggetto del podcast qui presentato. Mi piacerebbe in queste poche parole riassumere con dei documenti, in qualche caso anche inediti, il rapporto tra Don Giussani e la nostra università. È interessante notare come egli faccia domanda di assistente volontario per la filosofia della religione e accettando l'incarico scrive Chiarissimo Professore, sono molto lieto che la mia domanda come assistente a filosofia della religione sia stata accolta e ne ringrazio per la notificazione. Ho molto desiderio di lavorare e ringrazio il Dio che la collaborazione sia con lei, con rispettoso secchio, devotissimo sacerdote Luigi Giussani nel 66. La sua passione per questa disciplina sarà una costante nell'elaborazione culturale di Don Giussani e fondamentale anche per tutto quell'approccio che nei podcast ben si percepisce e ben si potrà sentire anche questa sera. Nel corso della sua attività come assistente volontario pubblica il recupero dei valori religiosi nel personalismo americano e la filosofia di Edgar Sheffield in filosofia e vita, aspetti della concezione della storia di Nibur in filosofia neoscolastica nel 68 e la teologia protestante americana la scuola cattolica nel 1969, come altri testi di carattere accademico seguono. È però da notare che il rapporto con l'università cattolica è ancora precedente di questi anni, come si vede in questa lettera dove invita il professor Vito, allora rettore dell'Università Cattolica, al convegno Gioveni e Libertà del 62. Illustrissimo Signore, la sua bontà e la sua sensibilità cristiana ci scuseranno se osiamo invitarla al convegno giovanile da noi indetto per domenica 18 febbraio. Ella è simbolo per noi di una libertà che la coscienza di autentici cristiani ha saputo conquistarsi in concreta istituzione. Ci permetta di sperare nella sua presenza, con profonda devozione, porgendovi visissimi osseghi, è il 14 febbraio del 1962. Don Giussani prosegue poi la sua attività come docente di introduzione della teologia per molti anni, con un'appassionata dedizione all'Ateneo dei Cattolici Italiani. L'amore e la dedizione di Don Giussani alla nostra Università si rintraccia anche in questa lettera che, sarà contento il professor Merzoni come per me, per motivi affettivi cito, poiché è relativa alla Facoltà di Scienze Politiche. Chiarissimo Professore, questa lettera è scritta Franceschini. Carissimo Professore, mi permetto accettare anche l'incarico propostemi nei primi due corsi di Scienze Politiche per l'esposizione della dottrina e morale cattolica. Spero di saper collaborare con l'aiuto di Dio, in cordialità ed impegno, la ringrazio ed osseguo devotamente. Ma ancora più evidente il rapporto con la nostra Università è questa bellissima lettera scritta al Rettore Bausola, a cui era particolarmente affezionato. Qui c'è anche il professor Lenoci che può sicuramente confermare questo. In risposta all'incarico che riceve di insegnamento e introduzione della teologia, questa lettera non è solo una semplice ringraziamento, ma una dichiarazione di missione e scopo della sua attività nella nostra Università. Chiarissimo Professore, le sono grato per il rinnovo all'incarico di introduzione della teologia ed accetto cordialmente nel desiderio di contribuire al servizio della nostra amata Università. Ma sono soprattutto lieto per l'occasione che mi è data di ringraziarla per quello che lei è per la Chiesa e questa sua opera, con devoto animo il sacerdote Luigi Giussani. Come vedete, il corso di introduzione della teologia è particolarmente significativo perché riguarda l'esperienza religiosa, come la lettera inviata dal professor Bausola dimostra, ossia quel corso che approfondisce e diffonde il senso religioso come presentato nel podcast. Sperando di far cosa gradita, ho fatto notare come il vivo rapporto tra Giussani e la nostra Università non è solo dato nei suoi anni di insegnamento, sicuramente importanti ma non esaustivi della personalità di Monsignor Luigi Giussani. È stato un protagonista tutto tondo della cultura del suo tempo e del nostro tempo e vi è traccia di questa sua personalità anche in due archivi che la nostra Università custodisce, direi anche con grande orgoglio, l'archivio RIS e l'archivio di un grande poeta recentemente scomparso, l'OI. Il cardinal Julian RIS intrattiene molteplici relazioni con Don Giussani, come si può vedere da questo breve ma amicale biglietto. Mio caro amato padre, oggi ho letto la sua lettera, sono felicissimo di incontrarla il 2 maggio, la ringrazio di tutto, nel 90, firmato Don Giussani. La relazione con RIS, che certamente qui non vogliamo approfondire, fa capire però l'interesse del giovane sacerdote per la filosofia delle religioni, come abbiamo documentato nella prima lettera inviata a Don Giussani come assistente volontario di filosofia delle religioni. Il cardinal RIS è entusiasta di intrattenere con Don Giussani un'anfinità culturale sull'antropologia religiosa, ma soprattutto un comun sentire per la nostra amata chiesa, come la definita RIS. Così che nell'Omelia per la messa in memoria di Don Giussani del 26 febbraio del 2005 lo definisce Apostolo di Cristo, intrepido e coraggioso, lungimirante e lucido, animato da una fede totale in Cristo, in Cristo Salvatore, Don Giussani non si fermerà più con la parola e i suoi scritti, annuncia Cristo e il suo messaggio. Particolarmente interessante è il titolo di questa omelia che ha voluto mettere RIS. La Chiesa esiste non perché io sono fedele, ma perché Gesù Cristo è vivente. Vorrei concludere questi breve noti, che sono solo una pennellata delle molteplici relazioni tra la nostra Università e Don Giussani, citando un altro archivio a noi caro del poeta Loi, che incontra Giussani nel 61. Loi, come noto, teneva un diario molto dettagliato su tutti i suoi incontri e con grande poesia questo diario era tenuto. Abbiamo riscontrato questa affermazione su Giussani dopo la cena della vigilia del 1961, cena che vede protagonisti, artisti e intellettuali amici dell'Oi, tra cui Tomiolo e Trasanna. In questo diario lui dice, Giulio, io, Tomiolo, siamo stati sferzati dall'amor proprio quando Giussani ci ha parato dei liceali. Così Tomiolo dice, io e te ne sappiamo più di lui, è Giulio, è un prete, ma nessuno di loro ha provato quello che ho pensato io quella notte, che i pensieri erano sensazioni e io ho misurato il senso del mio coraggio e del mio amore per la verità. In realtà, di fronte a Giussani, sono stato chiamato dalla sua fede. Io cerco, lui crede. Per lui ogni pensiero ha un suo posto, quello che si dice possedere una logica. Per me ogni pensiero è osservazione e riflessione nel senso della ricerca. Direi che per concludere ci affidiamo sempre alla poesia di Loi, che in un racconto degli anni settanta, mai pubblicato, sul suo soggiorno di casa, scrive un bellissimo racconto sull'inaugurazione della sua casa nuova, così ripercorre quella cena. Penso che in queste poche righe si possa intravedere la lezione di Don Giussani, non solo nelle aule universitarie, ma a tutti gli uomini del suo tempo e del nostro tempo. I versi di Loi ben si addicono alla presentazione del podcast il senso religioso. E qui c'è il pezzo dati lo scritto originale di Loi. Una sera, forse dopo Natale o forse l'ultimo dell'anno del 60, preparammo una grande festa. Venne Don Giussani e poi gli amici tra Zanna, Tomiolo, Paola e Ceci e tanti altri amici di allora. Forse quella sera compimmo il rito definitivo, quello spazio fu per sempre dedicato agli amici e alle grandi cene. Ricordo che verso mezzanotte spalancammo la finestra e invece del buio entrò la grande luce di Milano, che festeggiava da tutte le case e da tutte le finestre il finir dell'anno. Scoppie luci e gridi di gioia attraversavano come stelle la notte. Don Giussani mi venne vicino, mise un braccio attorno alla spalla e disse, guardando quelle luci nell'aria fredda, l'uomo è infinito. Quando nacque Stefano, anch'io dissi qualcosa di simile. Ricordo che andai alla finestra quella stessa sera e pensai, qualcosa si è sciolto nell'infinità dei cieli. Quella luna lassù mi è testimone. Nel mistero di noi è mutato il mondo. E questo racconto penso che ben sintetizzi nella visione di lui, cosa è stato Don Giussani non solo nelle aule universitarie, ma per tutta una generazione che l'ha incontrato e quindi ben contenti siamo di poter ospitare questi incontri relatori che di questo faranno. Grazie e buon incontro. Allora, adesso ascolteremo in successione i tre brani e dopo ciascuno dei tre brani del podcast ci sarà un dialogo e i nostri interlocutori dialogheranno su questi tre brani e infine poi Sua eccellenza concluderà il nostro pomeriggio. Grazie e buon ascolto. Il mio scopo in queste nostre conversazioni non è quello di far passare in voi un mio convincimento o di far passare in voi delle mie idee. Ma quello che io mi prefiggo con questa fatica è di insegnarvi un metodo, di comunicarvi un metodo. Dico un metodo per affrontare problemi di questo genere e siccome questi sono problemi comunque se ne dia risposta decisivi per la vita è di insegnarvi o di comunicarvi un metodo importante per la vostra vita. Il senso religioso è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo, più imponente, più vasto che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli, perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte dentro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Come abbordare questo fatto, come abbordarlo? E prima di tutto non bisogna abbandonarsi al parere di altri, perché questa sarebbe alienazione. Una seconda osservazione per rispondere alla domanda, e questa è un'osservazione di grande importanza che ripeterò tante volte, il metodo, cioè il come abbordare il metodo, è sempre imposto dall'oggetto, non immaginato dal soggetto. L'oggetto impone lui il metodo, non lo debbo immaginare io. Allora, l'esperienza religiosa è un fenomeno della mia persona, è un fatto che avviene in te, è qualcosa che è dentro l'essere e interessa te. Allora, se è l'oggetto che impone il metodo, se è qualcosa di inerente a me, debbo osservare me stesso. È una osservazione su di me che debbo fare. Insomma, una indagine esistenziale. Potremmo usare un'altra parola, una riflessione sulla mia esperienza. Poi, una volta che io abbia compiuto questa doverosa attenzione a me stesso, allora potrò con molto più frutto, gusto, ma soprattutto razionalità, cioè capacità critica, confrontarmi con tutto quello che dicono gli altri, da Platone a Hegel a Marx, al professore che insegna dalla cattedra del liceo o al parere di mio padre e di mia madre. La prima volta che ho fatto scuola di religione al liceo Berset, la prima ora, io ho incominciato dicendo, e da allora ogni volta che ho un pubblico nuovo incomincio sempre ricordando questo. Dicevo dunque ragazzi, io vi prego di una cosa, se non volete crescere schiavi alienati, abituatevi a paragonare tutto quello che io vi dirò, ma anche tutto quello che gli altri insegnanti vi diranno, con la vostra esperienza elementare. Che cosa intendo dire con questo termine esperienza elementare? Intendo appunto segnalare quel complesso di evidenze e di esigenze originali, costitutive della struttura del volto interiore di qualunque uomo. Ed è con questo bagaglio armato di questo bagaglio che l'uomo è buttato dall'impeto della natura dentro, io dico l'universale paragone, dentro il rapporto con tutti e con tutto. Il criterio ideale ultimo per giudicare è l'esperienza elementare, questo complesso di evidenze e di esigenze originali. Non può esserci un uomo che non nasca con il desiderio, con l'esigenza della verità, con l'esigenza della giustizia, con l'esigenza della bellezza, con l'esigenza della felicità, con l'esigenza dell'amore. Sono evidenze ed esigenze prima delle quali non c'è nulla, con le quali si affronta tutto. Non è facile usare questo criterio, occorre una fatica, per questo si chiama ascesi. È una ascesi il saper usare questo criterio. Tutto viene affrontato secondo una mentalità comune, quella sostenuta, propagandata con tutti i mezzi dal potere. Così avviene una grande incrostazione che altera l'evidenza di quei criteri originali. Tanto che uno dice, ma io non sento questa esigenza, non sente perché è dentro un sepolcro, sotto una montagna di terra, contraddire la sedimentazione introdotta e indotta dalla convivenza e dalla connivenza del nostro istintivo interesse momentaneo? Contraddire questa sedimentazione per ripescare continuamente la purità di questi criteri originali deve sfidare se stessi. È impopolare con se stessi, ma soprattutto deve sfidare l'opinione comune. È altamente impopolare nella convivenza. Dopo queste parole è difficile riprendere la parola, insomma. È impressionante la forza con cui questo podcast ci restituisce, il pensiero, la struttura del pensiero, una cascata di concetti uno dietro l'altro allineati di Don Giussani. Com'è nata Mario un po' questa vicenda? Buonasera a tutti, buonasera a tutti e grazie. Se ci pensate, queste lezioni come veniva spiegato poco fa, incominciano nel 1978 e il senso religioso non nasce come libro, sono una serie di lezioni che vengono fatte qui in università. Verranno poi raccolte. Ma la forza e la potenza originale era la forza di un messaggio che veniva dato, che era un messaggio condiviso con delle persone che erano davanti, era un messaggio orale con un tono di voce e un modo di parlare che è molto particolare, che ha un senso forte anche nel modo in cui le cose vengono sentire. È molto diverso che leggere in questo caso, perché qui si sente proprio un incalzare quasi di una necessità, di un'esigenza. Allora, quando Roberto Fontorano mi ha chiamato e mi ha detto abbiamo una scatola di cassette con delle registrazioni delle lezioni di Don Giussani. Alcune sono rovinate, alcune un po' si sentono, altre si sentono quali meglio, quali peggio. Proviamo a vedere se se ne può fare qualche cosa. Allora io ho pensato che era una sfida bellissima quella di poter restituire un'esperienza che era nella memoria di alcuni. Per altri era un sentito dire, per altri era un racconto riportato, per altri era una lettura. E allora pensare di ricostruire quella esperienza, ma senza, ricorrendo alla tecnologia, ma non ricorrendo alla tecnologia che oggi dice clono una voce e gli faccio dire dell'altro, faccio ricantare una voce e gli faccio cantare un'altra cosa. No, non è questo. Riporto la possibilità di avere l'esperienza originale. Allora da questo punto di vista capite che la tecnologia può darti un'opportunità incredibile. Infatti la prima parte del lavoro è stato un lavoro di restauro del suono, di ripulitura, di riportare. Sentite questo suono, a me fa impressione, oltretutto adesso è molto diverso perché quando l'abbiamo sentito l'abbiamo sentito in cuffia, l'abbiamo sentito in una piccola stanza, ma sentirlo nella stessa aula dove lo si sentiva è una cosa che ti fa impressione. E ne senti la stessa forza e potenza evocativa. E allora l'idea di questo podcast, a cui appunto con Korak, che è la società che dirigo, che ho fondato, che è una società che fa podcast, e in questo caso si venivano a sposare due cose. Io credo molto nei podcast perché credo che in un tempo di crisi di fiducia, la voce, recuperare la voce, è difficile che la voce inganni. Nel senso che tu l'imbarazzo e le sfumature le senti subito nella voce. Tu senti subito se a uno la voce si rompe, senti subito se uno ha un'incertezza, un'indecisione, se si blocca. E quindi la voce è un bel mezzo per ricostruire fiducia, per costruire empatia, per costruire ascolto, anche pazienza dell'ascolto. Perché se tu oggi vai, soprattutto nella parte più giovane della popolazione, ne vedo tanta qui, e tu gli dici, ok, leggi queste 50 pagine, oppure ascolta questa cosa che dura 50 minuti, è ben diverso. È molto più facile ascoltare 50 minuti. Ma non è che siccome è più facile ha meno valore. Può avere lo stesso impatto, o forse potrebbe avere più impatto emotivo. Allora questa idea che si poteva provare a fare un esperimento che non era stato fatto ancora così, di recuperare un corpus di lezioni e di riportarlo in vita e di metterlo a disposizione di tutti, e di quindi di dire, ok, questa cosa qua adesso può diventare una cosa che possono ascoltare liberamente tutti, e che è a disposizione ovunque, su tutte le piattaforme tecnologiche, e che te lo puoi scambiare attraverso un WhatsApp, e lo puoi ascoltare. E quindi puoi rivivere quell'esperienza con esperienza che fino a una settimana prima pensavi che non ti fosse data. Allora questa cosa qua secondo me è stata una rivoluzione. E gli ascolti di questo podcast sono stati incredibili. E sono stati incredibili perché hanno aperto una porta che non era immaginata e immaginabile. Cosa vuol dire incredibili? Beh, che sono stati nell'ordine delle, non mi ricordo, ma all'inizio delle decine di migliaia, e poi hanno superato i centomila ascolti. Cioè stiamo parlando di un numero immenso di persone che hanno ascoltato e che hanno riascoltato. E quindi era come se tu avessi ripreso quest'aula 45 anni dopo, tu l'avessi riaperta e avessi detto però può entrare chiunque, non c'è un limite di persone che possono stare in quest'aula. Non è più per 200 persone, per 300 persone, o per gli iscritti a quel corso, quelli che stanno frequentando quell'anno. È per tutti quelli che vogliono entrare. Allora se ci pensate, queste qui sono delle cose che oggi si possono fare, che però al di là della, perché la tecnologia fine a se stessa francamente non ci dice, a me non dice niente, se invece però tu puoi utilizzare un fatto tecnologico per costruire un fatto che invece è più grande del fatto tecnologico e che è un fatto di coinvolgimento, allora la potenza evocativa di messaggio è grandissima ed è in attesa. Grazie. Mi rivolgo alla professoressa Sharonia Librandi. In quest'aula, riaperta come dice Mario Carabresi dopo 45 anni, con questi podcast, Don Giussani propone un metodo. Quindi non sono lezioni per alcuni, sono lezioni che si rivolgono a tutti. Anche credo alla giovanissima professoressa che anche lei abbiamo scoperto, qui hanno tutti studenti di Don Giussani, in quegli anni lì diciamo, in quegli anni lì. Lei insegna alla Cattolica, è sottosegretario di Castero per la Cultura e l'Educazione presso la Santa Sede. Credo che da lì parta un ragionamento perché Don Giussani dice, io insegno, propongo un metodo e una verifica e poi a un certo punto, tra le tante cose che dice, dice l'uomo è buttato nella mischia della realtà, avendo dentro questa esperienza elementare e tutto il punto è il rapporto, l'analisi, la verifica tra quello che hai dentro, che senti, le esigenze, le evidenze originarie e la realtà che ti viene addosso continuamente. Sì, allora in effetti devo dire che per riprendere anche quello che diceva prima Mario Cadabresi, io sono la conferma, la prova provata di quello che stava dicendo. Io anche appartengo al novero di quelli che hanno frequentato le elezioni di Don Giussani nell'84 e mi ha colpito molto risentire a distanza di 40 anni, giù di lì, la voce di Don Giussani e mi ha riportato proprio a quell'esperienza. In realtà ho conosciuto l'esistenza di questo progetto ancora prima che venisse poi reso noto a tutti perché gli amici Roberto Fontolan, Michele Borghi, me ne avevano anche parlato e ho pensato già prima di sentirlo, poi sono rimasta appunto come dico direttamente colpita dalla cosa che fosse un'idea veramente potente, in generale come giustamente diceva Mario Cadabresi, ma anche nello specifico, in particolare, cioè un podcast che rende di nuovo possibile un'esperienza. Perché io mi ricordo questo, sinceramente la parola esperienza, oltre a quella metodo, sono forse fra le più espressive, significative, quelle che mi sono portata poi in questi 40 anni, che questo podcast mi ha risuscitato più potenti. Perché esperienza e metodo peraltro sono due termini che inducono di più pensare a qualcosa di scientifico, esperienza è prossima a esperimento, metodo riporta significativamente al concetto di metodo scientifico, ma erano proprio due cardini, due cardini di Don Giussani in generale, ma due cardini di quei corsi. E questa possibilità della tecnologia di rifare esperienza, che è qualcosa poi di estremamente reale. Io ho questo ricordo di quelle lezioni alle quali peraltro è stata portata ai nostri tempi, appunto, di 40 anni fa si potevano scegliere i corsi di introduzione alla teologia, quindi si sceglieva. Io non è che avessi, confesso, sentito parlare prima di Don Giussani, dei compagni di corso mi hanno portato. Però appunto questo tema dell'esperienza, di fare esperienza di qualcosa che era molto reale e affrontata con un metodo, mi aveva colpito da subito, devo dire. E risentendolo adesso mi sembra di una, non dico attualità, che anche mi fa molto piacere appunto che ci siano tanti ragazzi oggi qui, peraltro, consentitemi, tra parentesi mi fa anche molto piacere essere qui, perché io in questo momento in realtà non insegno, perché sono inaspettativa, essendo da un anno circa occupata a fare altro presso la Santa Sede come sottosegretario, ma la mia università e gli studenti, il rapporto con gli studenti è qualcosa che mi manca, perché questa è un po' la mia casa, quindi è bello essere qui in quest'aula. E dicevo però, questo tema del metodo e dell'esperienza è qualcosa di estremamente adatto all'oggi, come lo era anche allo ieri, perché è qualcosa, ha una matrice universale, se posso dire. E poi non è altro che l'espressione di un convincimento fortissimo che passava da quei corsi, che ha a che fare con la ragionevolezza della fede, perché non si può parlare di metodo, non si può parlare di esperienza, se non nella convinzione di un'esperienza religiosa, che però è anche un'esperienza di ragione. La ragionevolezza della fede, che è un'espressione così pure ricorrente di Don Giussani, passa proprio attraverso questa concretezza di realtà. e l'altra notazione che in questo frammento che abbiamo ascoltato emerge molto forte, e mi sembra anche molto importante però da sottolineare, è le esigenze, l'esperienza elementare, le esigenze o i bisogni primari, anche quelli che non si sentono, perché sono, come dice Don Giussani, in questo frammento che abbiamo ascoltato, sepolti, no, in un sepolcro con un'incrostazione sopra che non li fa più sentire. E però non è che perché non li sentiamo non ci sono più. Non li sentiamo, ma ci sono. Ecco, questo è un invito che secondo me oggi, nel tempo che stiamo vivendo, in cui le incrostazioni sono veramente tante e i sepolcri sono sempre più carichi di pietre sopra, questo è un invito e un'esortazione che è molto importante. La ragionevolezza della fede, la concretezza dell'esperienza elementare, il metodo, e non fidarsi solo del sentimento, poi forse lo sentiamo meglio nell'audio successivo, il sentimento dell'io, ma l'io per sé, ecco, questo è proprio un insegnamento molto attuale. Mario, poi passiamo al secondo podcast, ma insomma, quello che diceva la professoressa è un po', no, l'idea della rottura da questo podcast, da questo brano, si sente, no, emergere con forza la rottura di uno schema e di un pregiudizio. Il cristianesimo come un fatto privato, come una questione che forse non interpella nemmeno la ragione, invece qua si rovescia e si chiama in caso all'uomo con tutta la ragione, con tutta la persona, la personalità umana in questa sfida. è super moderno, rompe un po' tutti gli schemi a cui eravamo, in parte siamo forse un po' tutti abituati con le divisioni, no? Poi si dice, tu sei così, l'altro magari ha fede, ma è una questione sua. Sì, io devo dire che a me colpiva un po' la contestualizzazione di quando queste elezioni cominciano, cioè queste elezioni cominciano in un momento, pensiamo che cos'era l'Italia, cos'era l'Occidente, cos'era Milano nel 1978, il tipo di scontro ideologico che c'era, come l'essere umano fosse, diciamo, un tema secondario rispetto... tutto era chiuso in simboli, appartenenze, scontri tra aree politiche, e quindi dire le evidenze o esigenze originali delle persone, di fronte a... dove erano nello scontro politico feroce che c'era allora, in cui la vita umana a un certo punto aveva un valore, diciamo, scarso, l'idea delle esigenze originali delle persone. Cioè questo mi ha colpito, questo era, secondo me, anche un tema di rottura. Una sfida anche al tempo che agli anni settanta, e poi vabbè, che però ci prosegue fino ad oggi, tant'è che lo risentiamo con forza. Ascoltiamo adesso il secondo brano. Come affrontare la questione che ci interessa? Cioè, come cogliere l'esperienza religiosa per sorprenderne i fattori costitutivi? A questo come rispondo con tre cose. Primo, trattandosi di un'esperienza dell'io, bisogna partire da sé, partire dalla esperienza propria. Secondo, non da una immagine di sé, dall'immagine o dal sentimento di sé che abbiamo. Perché l'immagine o il sentimento che di noi stessi abbiamo lo mutuiamo normalmente dalle idee correnti, è frutto di influsso, diciamo, sociale. Terzo, si parte veramente da sé stessi quando la persona è guardata in azione. Cioè, quando la propria persona è osservata nell'esperienza quotidiana. Quindi, come cogliere l'esperienza religiosa così da sorprendermi i fattori costitutivi, bisogna osservare noi stessi nell'esperienza quotidiana. Terzo passo. Infatti, i fattori costitutivi di una cosa, di una realtà, emergono quando quella realtà è guardata in azione. L'io in azione rivela sempre per che cosa è fatto. Per questo l'uomo pigro, l'uomo pigro, anche interiormente pigro, capisce meno se stesso. Se uno non si applica alla matematica, all'algebra, crederà sempre di non essere capace in algebra e in matematica. Come per quattro anni della mia scuola media ho pensato io. quando la ragazzina dice io non sono capace di niente, se il giorno dopo trova il compiacente ragazzo, oppure anche un altro, che gli dica sei in gamba? Un professore, sei in gamba? E smopirita l'affermazione che faceva, magari la ripete, ma con meno convinzione. incomincia ad accorgersi di qualche cosa di cui è capace. Così, in una società, la disoccupazione è un attentato alla coscienza che l'uomo ha di se stesso. Perché se uno è disoccupato, non capisce più cos'è lui. Come dire, si sfocano i fattori di una percezione di se stesso. Ma, da questa insistenza, che può sembrare eccessiva e ripetitiva, io trago un nota bene importante. I fattori costitutivi di una cosa si percepiscono in quel che sono nel loro valore là dove sono impegnati, altrimenti non sono rilevabili. Insomma, se una persona non è educata nella vita etica, morale, non percepisce le leggi morali. E quindi non può essere questa la ragione per dire non è vero che ci sono leggi morali. I fattori costitutivi di un fatto, di un fenomeno, di una realtà, se non vengono sorpresi in impegno, dentro un loro impegno, non sono rilevabili. È come se non ci fossero. voglio dire sono obliterati, sono letteralmente obliterati. Essere impegnati nella vita significa avere un abitus, un'abitudine ad essere impegnati nei problemi che ne costituiscono il tessuto. Diciamo una parola semplice, bisogna essere seri con la vita. per cogliere i fattori fondamentali della vita bisogna essere seri con la vita, impegnati con la sua, con tutta la sua problematica, impegnati con tutti i suoi problemi, cioè impegnati con la vita. Sorprendere dunque in noi stessi l'esistenza e la natura di un fattore portante, di un fattore fondamentale come il senso religioso, sorprendere questo deriva da un impegno con la vita intera. Allora dentro ogni gesto è sperimentabile il passo al destino. Il primo aspetto del contesto in cui un soggetto agisce è la tradizione. Non c'è alcun soggetto che agisce che possa agire senza che sia immerso in una tradizione. Bisogna, è chiaro, che l'uomo che è il soggetto per agire bene non si fossilezzi su quello che la tradizione gli ha dato ma sia creativo creativo fino a mutare quello che gli è stato dato. però non si può mutare quello che mi è stato dato se non attraverso quello che mi è stato dato. La tradizione infatti è l'ipotesi di lavoro che esistenzialmente ci viene data per il grande cantiere della vita per il grande cantiere del nostro apporto alla storia. Se un uomo obliterà cansa o disprezza non bada non prende sul serio ciò che gli è stato dato sarà sleale in tutta la sua vita con sua moglie con sua madre con i suoi figli con i suoi amici dovunque. Perché capite che la tradizione è il primo il primo contenuto della coscienza. Se io se sono leale se mi viene davanti una cosa e e io debbo debbo attraversarla per camminare io debbo giudicarla debbo prenderla sul serio. Anche qui professoressa c'è un grande rovesciamento rispetto a molti stereotipi immagini luoghi comuni e pregiudizi il senso religioso lo si scopre impegnandosi nell'azione nell'esperienza nella vita quotidiana richiede impegno e richiede richiede appunto questa mischia questo combattimento con la realtà. Ma è veramente molto 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 interessante riascoltarlo a distanza di tanti anni questa questa questione dell'impegno nella realtà nella realtà così come ti si pone come ti si presenta veramente ti si impone per certi versi è una sottolineatura che forse comprendo meglio adesso rispetto a quando l'ho ascoltato 40 anni fa è passata un po' di acqua sotto i ponti ma quanto è vero cioè quanto è vero che è la realtà la realtà che vivi è la quotidianità di ogni giorno quella che ti capita che ti viene posta davanti che ti misura e ti richiede un criterio e questo criterio poi dove lo trovi è proprio dentro di te e questo io penso per i più giovani mi piace parlare ai più giovani che sono qua questo è molto importante è veramente molto importante perché specialmente nel tempo che stiamo vivendo che è un tempo che per tanti giovani sembra così preoccupante pauroso inquietante instabile non che non lo sia perché sinceramente anche per noi con qualche anno in più sulle spalle la percezione di un mondo come quello di adesso ci allarma ecco però questo è il mondo in cui siamo chiamati a vivere non è un altro questa è la realtà e con questa ci dobbiamo confrontare e questa che richiede il nostro impegno ci misura e non ci schiaccia però ci misura perché dentro di noi come diceva adesso benissimo Don Giussani troviamo quello che ci consente anche di capire meglio il nostro io questo passo al destino è bellissima questa espressione che ha usato più si impegna più si entra più emerge il senso della realtà e più ci si chiarisce questo senso della realtà e poi c'è un altro tema bellissimo nella prima parte veramente altri due di una ricchezza questo frammento il tema della tradizione questo lo chiediamo a Carabresi ed è un grande tema però questo magari lo sentiamo più noi che abbiamo qualche anno in più ma la tradizione e lo sguardo al futuro se pensiamo che comunque noi viviamo sempre solo nel presente quello che è passato è passato e quello che viene siamo sempre nell'oggi però è un oggi in un equilibrio sottile tra la tradizione e la creatività che è affidata alle nostre mani e quindi è veramente un enorme tema ma l'altro aspetto che ha a che fare di più con l'educazione che da professoressa da educatrice non posso non rimarcare è questo tema che era più nella prima parte io penso io penso di non sapere la matematica penso di non avere talenti penso di non essere capace ma dove lo apprendo che invece io li ho e che valgo li apprendo all'interno di un rapporto educativo e non posso non citare anche se oggi stiamo parlando del senso religioso però quell'altro grande testo che è il rischio educativo che è veramente anche quello oggi forse ancora più attuale rispetto a quando è stato scritto e il Don Giussani era veramente un uomo appassionato di educazione e detto in questo università a me fa molto piacere poterlo ricordare qui in questa università perché tutti noi credo siamo chi insegna qui è appassionato di educazione e tutti siamo convinti che alla fine è veramente grazie all'educazione e a un rapporto educativo di un certo tipo una relazione educativa che si crea tra chi insegna e chi è studente che entrambi per la verità chi insegna e chi apprende possono dare il meglio di sé e da questo punto di vista prendo ancora 30 secondi c'è un altro aspetto che io ricordo da studentessa di quelle lezioni c'era questo metodo molto incalzante di domande un sacco di domande che venivano fatte ma venivano fatte secondo me proprio per il gusto anche di essere sfidato dalle risposte cioè non domande in un certo senso retoriche che tutti da professori possiamo fare perché ognuno ha il suo mestiere ed è anche si tiene meglio un'aula ma erano proprio domande dove la risposta dello studente era una risposta che generava creatività in Don Giussani e questo io penso che sia veramente il bello il vero il più del rapporto educativo prima mi rivolgo al direttore Calabresi parlavi del contesto in cui nascono queste lezioni per certi aspetti sembra che lui vada da un'altra parte poi parla della tradizione ma anche qui c'è un ma non è la tradizione dei tradizionalisti che ostentano lui spiega a un certo punto la tradizione serve per il grande cantiere della vita cioè ti dà una prospettiva straordinaria quindi da un certo punto di vista va oltre i tempi va oltre la bagarre dei tempi delle battaglie politiche di quello che succedeva ma non guarda l'indietro fa una sintesi di un'esperienza straordinaria proiettandolo in avanti e parla appunto di questa tradizione come grande aiuto per il cantiere della vita di ciascuno di noi mi viene da dire che se che questo punto è non è che tu devi prendere una tradizione e devi essere stare nell'alveo della tradizione è che per trovare te stesso devi sfidare anche la tradizione è come il figlio che deve sfidare il padre infatti il problema è che quando i genitori sono troppo amici dei figli i figli non hanno niente da sfidare e quindi fanno fatica a farsi a farsi una propria costruzione di se stessi c'è bisogno di confrontarsi e anche di differenziarsi su qualcosa a me colpiva questa cosa qua che io credo che sia una bella un bel tema da porsi se si ha vent'anni oggi bisogna essere seri con la vita che attenzione non è che vuol dire bisogna essere seriosi bisogna essere cupi non si può essere capaci di ridere di scherzare ma bisogna essere seri nel senso di prendere seriamente la propria vita cioè di porsi delle domande di porsi delle domande quando dice l'uomo pigro capisce meno di se stesso perché l'uomo pigro non si pone la domanda prende quello che è dato si adagia in quello che è dato e non va avanti allora però il punto di essere seri è pensare che in tutte le sfumature ogni giornata che uno incontra e questo vale universalmente che ogni giornata che uno incontra è una possibilità ed è una possibilità che vale la pena di essere affrontata e quindi che ogni giornata anche la più nera contiene qualche cosa che ci può aiutare che ci può far camminare che ci può avere uno stimolo e quindi prendere seriamente le cose significa pensare che ogni giorno la vita mi dice qualcosa che posso provare a imparare qualcosa a mettere in discussione qualcosa a fare un passo avanti a interrogarmi io ricordo di devo dire di tutto un corso di filosofia che avevo fatto mi era rimasta una cosa in testa che però mi piaceva un sacco e che era Heidegger che in una delle ultime cose che scrive dice che alla fine la cosa più importante non è la risposta ma è la domanda e quel punto di domanda quella tensione del punto di domanda della domanda alla fine è una tensione che uno dovrebbe tenersi cara per tutta la vita io sto banalizzandolo perché non sono in grado di ripeterlo come era però quella idea lì che tu ti fai delle domande finché ti fai delle domande allora sei veramente vivo perché ti fai delle domande e quelle domande ti impongono di chiedere infatti quando mi capita di andare alle scuole di giornalismo e mi dicono ci dica un bel metodo giornalistico e io dico di farvi domande su tutto di farvi domande cioè non certezze domande perché le domande sono le uniche cose che ti permettono di crescere e anche sfidare le convenzioni la tradizione quello che ti viene dato quello quando ti trovi davanti a dei fatti che ti dicono le cose stanno così magari poi stanno davvero così non è detto che sempre ci sia un'altra lettura però il non fermarsi alle cose stanno così e chiedersi forse però io provo a vedere se mi faccio delle domande se posso andare un pochino in là se posso trovare perché quel qualcosa quel poco di più che tu puoi capire da solo puoi conquistare quella è una cosa che ti arricchisce tantissimo quindi ritorno secondo me questo bisogna essere seri con la vita e ci siamo intesi su cosa vuol dire seri mi pare il messaggio più forte che c'era in questo frammento ascoltiamo adesso il terzo frammento il terzo brano come fanno a destarsi quelle domande ultime che è uguale a dire come fa a destarsi l'umana coscienza se quelle domande ultime sono il costitutivo la stoffa dell'umana coscienza se quelle domande ultime sono il costitutivo la stoffa dell'umana ragione come fanno a destarsi una risposta a tale domanda ci costringe a individuare la struttura di reazione che l'uomo ha di fronte alla realtà perché nell'uomo sorgono quelle domande per il suo impatto con la realtà è chiaro tanto è vero ragazzi che un individuo che ha avuto poco impatto con la realtà o perché ha vissuto tutti gli anni della sua vita nelle casupole di un'alpe e non ha visto altro orizzonte che le montagne che definiscono un'alpe stessa oppure perché è stato servito in tutto e non ha avuto nessuna fatica da compiere in quella misura ha poco il senso della propria coscienza percepisce poco l'energia la vibrazione della sua ragione allora accingiamoci a descrivere la struttura di reazione che l'uomo subisce o attua in questo impatto innanzitutto a questo punto per farvi capire provoco un'immaginazione però guardate per fuori che non è una metafora è vera è un è un rendersi conto attraverso uno sforzo immaginativo ma un renderci conto supponete di nascere di uscire dal ventre di vostra madre con l'età di adesso età nel senso di sviluppo di coscienza di adesso coscienti come vi è possibile adesso quale sarebbe il primo l'assolutamente primo sentimento cioè il primo fattore della reazione di fronte al reale se io spalancassi per la prima volta gli occhi in questo istante uscendo dal senso di mia madre io sarei dominato dalla meraviglia o dallo stupore delle cose delle cose come di una presenza una presenza in netti tutto nella prima frazione infinitesimale di secondo e lo stupore proprio il contracolpo stupefatto di una presenza che viene espressa nel vocabolario normale della gente dalla parola cosa cosa le cose che è una versione concreta e se volete banale della parola essere non come entità stratta ma come presenza che non faccio io che mi trovo una presenza che mi si impone a questo punto quando l'uomo è risvegliato del suo essere dalla presenza dall'attrattiva dallo stupore grato le tizie dei cuori perché questa presenza è benefica gli dà da mangiare e lo ristora allora si accorge di sé come io e ripete lo stupore originale ma con una profondità che stabilisce la sua identità io non posso negare che l'evidenza più grande e più profonda è che io non mi faccio da me non sto facendomi da me io non mi do l'essere non mi do la realtà che sono sono dato voglio dire la scoperta di me di me stesso come dipendente da dentro me stesso se scendo fino in fondo d'onde scaturisco non da me da altro la percezione di me come un fiotto che nasce da qualcosa d'altro c'è qualcosa d'altro che più me di me se un fiotto di sorgente potesse pensare percepirebbe al fondo del suo fiore fresco percepirebbe una origine che non sa cosa è è altro da sé l'intuizione che in ogni tempo della storia lo spirito umano più acuto ha avuto di questa misteriosa presenza da cui la consistenza del mio istante del mio io è resa possibile io sono tu che mi fai per essere vivida questa complessa e pur semplice esperienza questa esperienza ricchissima di cui è costituito il cuore dell'uomo che è il cuore dell'uomo e perciò il cuore della natura il cuore del cosmo questa esperienza vivida che è il cuore dell'uomo e del cosmo come diventa potente ve lo ho detto nell'impatto correale allora l'unica condizione per essere veramente religiosi l'unica precondizione è vivere intensamente il reale la formula dell'itinerario al significato della realtà è quella di vivere il reale senza preclusioni cioè senza rinnegare e dimenticare nulla stampatevelo in testa questo che sei sufficientemente contento di essere vissuto se non lo dimenticate senza rinnegare e dimenticare nulla nulla non sarebbe infatti umano cioè ragionevole considerare l'esperienza umana limitatamente alla sua superficie alla sua cresta d'onda senza scendere nel profondo del moto il positivismo che domina la mentalità dell'uomo moderno esclude la sollecitazione alla ricerca del significato che ci viene dal rapporto originario con le cose allora chiedo rapidamente a tutte e due quest'ultima provocazione l'unica condizione per essere religiosi vivere intensamente il reale senza preclusioni senza se senza ma ma io veramente una battuta perché mi dispiace persino commentarle queste parole io penso che in questo ultimo frammento c'è questo ritorno all'idea di stupore meraviglia la realtà che si impone e questo io penso sia così vero nel momento in cui continuiamo a percepire istante per istante la meraviglia e lo stupore della realtà in cui viviamo e di noi stessi come un io dato questo è solo generativo di un gran senso di letizia nonché restituzione e secondo me è veramente meraviglioso mi fermo qua avrei detto la stessa cosa per essere più sintetici ho un foglietto che lo testimonia voglio dire questo e parlo ai ragazzi che la capacità agganciandomi a questo che abbiamo sentito la capacità di tenere gli occhi aperti e di farsi stupire ogni giorno è il miglior regalo che vi potete fare cioè per esempio voi entrate dentro questa università e dentro questa aula magna magari siete abituati e non vi stupite più invece se siete capaci di entrare nel cortile guardare il cortile e guardare quel giardino e stupirvi e alzare gli occhi qua dentro e dire che meraviglia e così di mille cose che vi possono capitare che possono essere all'incontro con una persona un abbraccio un caffè un discorso un pensiero una cosa che leggete una discussione allora tutto questo è quello che veramente poi fa la differenza nell'esistenza anche la capacità di stupirsi perché poi alla fine qui vado fuori tema però la peggiore cosa che può capitarne nella vita è il cinismo cioè è di è quando sai già tutto io penso che quelli che ti dicono no ma abbiamo già visto so già tutto io quelli li piango perché pensano hanno già finito la loro esistenza se sanno già tutto hanno finito di esistere perché non possono più stupirsi non possono più imparare niente non possono più essere curiosi di niente e quindi tenetevi lontani da qualunque tentazione di di cinismo di così di 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 stacco fatevi coinvolgere fatevi tirar dentro le cose magari sbagliate certe volte ma meglio sbagliare facendosi tirar dentro e quindi essendo coinvolti nelle cose vi chiudo con una battuta in a New York dopo l'11 settembre ma c'è ancora adesso su tutti i mezzi pubblici c'era scritto if you see something say something cioè se vedi qualcosa di sospetto di subito qualcosa segnala questa cosa sospetta io ricordo un ragazzo che un ragazzo una ragazza non so chi fosse che aveva cancellato un pezzo della scritta e aveva lasciato if you see something get involved se vedi qualcosa fatti coinvolgere da questa cosa e mi è sembrato l'augurio più bello non l'augurio della paura ma l'augurio di essere coinvolte nelle cose che si incontrano nella vita grazie beh era quello che dicevate è un po' poi quello del documento del 1960 che abbiamo sentito prima le luci le luminari di Milano Don Giussani mette la spalla la mano sulla spalla e dice l'uomo è infinito quindi da una cosa che tutti banalizzano lui arriva al punto ma io mi fermo perché adesso tocca all'arcivescovo che se no poi si arrabbia con noi venga venga ecco vorrei dire tre parole la prima è svegliati ecco l'impatto con le lezioni la parola e la figura di Don Giussani dice perché nella chiesa nella storia il Signore dà alcune persone un carisma perché vuole dire a molti svegliati svegliati non restare sepolto sotto le abitudini sotto il non farti più domande ecco questa cosa che è emersa continuamente stasera però mi pare che sia anche la diciamo la gratitudine per questo incontro ci viene ricordato questo viene una voce viene una figura viene una persona che fa delle lezioni in università e dice non solo impara questo e quello studia da pagina tale a pagina tale ma svegliati ecco svegliare una persona svegliare una libertà e le parole che per descrivere questo risveglio sono in particolare mi sembra queste la prima è il desiderio cioè quella impressione di un incompiuto che proprio perché ascolti una promessa dice ah e allora c'è una possibilità di compimento il desiderio e un'altra parola è l'inquietudine la percezione che ho delle domande che sono inquieto che non che la pigrizia non mi soddisfa che l'adagiarmi non mi non è adeguato a me e la terza parola quella che è già stata ripetuta più volte è stupore lo stupore vuol dire quell'impressione che una cosa non è una cosa che quello che è lì davanti che c'è sempre stato non c'è sempre stato lo stupore che è poi quello che introduce alla gioia di vivere anche alla paura ecco io questa è la prima parola che voglio dire il carisma è un invito al risveglio la seconda parola che voglio dire come mia reazione a quello che Don Giussani ha detto e ai discorsi che sono fatti sono stati fatti questa sera è che questa operazione del risveglio libera la libertà ecco il carisma libera la libertà cioè autorizza a diventare quello per cui sei fatto il carisma non crea una dipendenza cioè un dire ecco adesso devo ripetere quello che Giussani ha detto devo usare le parole che Giussani ha detto oppure qualche altra ecco non sono chiamato a una dipendenza ma a quella libertà che sceglie e che cammina e che vive la propria vocazione non quella di un altro e dunque questo incoraggia all'autonomia alla creatività ad andare oltre perché qui si realizza quello che Giussani ha detto della tradizione tu sei vivo perché sei stato generato perché ti hanno insegnato quelle parole lì e tu non è che parli con parole che hai inventato tu le hai le hai apprese da una tradizione ma l'essere vivo vuol dire l'essere quella libertà di reinventare le parole di creare il tuo modo di comunicare di essere di scegliere di amare il carisma è questa funzione di liberare la libertà e questo che bisogna sempre diciamo custodire ecco per non essere semplicemente dei ripetitori ma delle uomini e donne che vivono la propria vita e Giussani come avete sentito come penso molti di voi sanno ha introdotto dei linguaggi che se io fossi professore d'italiano un po' correggerei ecco perché usa delle parole in una maniera che non si usano quindi aveva questa manipolazione del linguaggio e quindi come quando dice paragonarsi io non ho mai capito cosa voglio dire paragonarsi però qualche prete mio amico ha cercato di spiegarmelo ma io sono un po' lento a capire ecco quindi però ecco non è necessario per forza usare delle parole diverse o uguali l'importante è che ci sia una libertà che fa delle scelte che si sente liberato dall'incontro con un maestro con un carisma con un insegnamento e l'ultima cosa che voglio dire è aprire una riflessione che però credo dovrebbe essere svolta soprattutto dai ragazzi più giovani che è rispondere a questa domanda qual è l'attualità di Don Giussani e qual è l'inattualità in che senso è attuale e in che senso si percepisce che è inattuale inattuale non perché sia superato ma perché l'attualità sembra creare quell'incrostazione che impedisce alla parola di risvegliare la persona risvegliare la libertà inattuale non vuol dire questi bravi ragazzi degli anni sessanta che andavano a scuola con la giacca e la cravatta insomma sono una bella cosa ecco voi vestite tutti come dei barboni quindi però vabbè insomma no ma non è che volevo offendervi però insomma è un bel vedere questi liceali così però ecco non è che vuol dire allora Giussani è confinato in un berché in cui si andava con giacca e cravatta ma ecco forse l'inattualità è questa cosa che lui dice non c'è nessuno che viene al mondo senza un desiderio e invece questo è quello che ci preoccupa che sembra che viviamo che si usa vivere di desideri piccoli di cose a portata di mano ecco per questo uno dice forse bisogna ribadire questa provocazione dell'inattualità di di Don Giussani è come il tempo come la cosa che dice ecco dove dove trovi dove rispondi alle tue domande ecco lui insiste su questo percorso agostiniano no entra dentro di te devi andare in profondo dentro di te devi stare con te stesso ecco questa è una parola forse un po' inattuale perché mi pare che la tendenza diffusa è quella piuttosto di vivere fuori di sé di vivere di quasi aver paura della propria intimità perché nell'intimità si ha l'impressione che abitino dei mostri che ci siano dentro delle cose che mi fanno paura dei sensi di colpa che mi tormentano perciò forse si usa vivere fuori di sé inseguire la cronaca inseguire la curiosità inseguire il prodotto in vendita no ecco e invece questo invito a rientrare in se stessi ma con quale coraggio si rientra in se stessi ecco l'impatto con la realtà questo prendere sul serio la vita vuol dire percorrere quella strada talvolta inquietante del domandarsi ma io chi sono ma io perché sono al mondo ed è questo l'inattualità di Don Giussani e in generale del cristianesimo di chi ti dice se tu realmente rientri in te stesso non incontri i mostri che ti spaventano non incontri i sensi di colpa che ti tormentano ma entrando sempre più in profondità incontri ecco incontri Dio questa è questa ultimo podcast che abbiamo ascoltato no questo accorgersi che io sono tu che mi fai che anche lì in italiano io avrei qualche problema a capire come sia l'analisi logica però il messaggio invece è penetrante cioè io vivo per grazia io mi rendo conto di ricevere ecco di ricevermi di essere vivo perdono ecco queste tre parole vorrei consegnare come ringraziamento sia per il lavoro fatto di restituire la voce a Don Giussani insieme con le parole che abbiamo letto che sono scritte sui libri per anche dire che cosa ho ricavato io da questo ascolto quindi la prima parola è questa che l'incontro ti risveglia secondo che l'incontro libera la tua libertà e terzo dire percorrere con intelligenza con senso critico e con fiducia è questa domanda sull'attualità e l'inattualità che continua ad essere una provocazione ad andare oltre grazie molto ringrazio la chiameremo eccellenza per la revisione linguistica è cosa impossibile certo diciamo che c'è un'attualità insuperabile in questo caso va bene come vedete insomma ringrazio le parole straordinarie dell'Arcivescovo di Milano e ringrazio naturalmente anche Mario Calabresi e ringrazio Antonella Sciarone Alibrandi mi pare che questa serata pomeriggio sia stato tutto forché una commemorazione un'operazione come dire di archeologia tecnologica su testi vecchi abbiamo siamo diciamo dentro la spuma della realtà e mi colpisce moltissimo tra le tante cose che sono state dette quest'ultima che ha detto l'Arcivescovo a cui do indecentemente le spalle mi scuso beh insomma l'inattualità insomma la riduzione che si fa continuamente lui ha detto di Don Giussani del cristianesimo quindi alla fine dello scavo dentro di noi per citare Sant'Agostino la riduzione della ragione la riduzione dell'inquietudine la riduzione del desiderio e l'adagiarsi in quell'uomo pigro di cui abbiamo parlato oggi ecco noi combattiamo tutti i giorni questo podcast credo che ci aiuti proprio contro l'uomo pigro l'uomo disimpegnato l'uomo che in fondo dice vabbè è andata così e invece avete visto anche una festa di capodanno può essere l'occasione per dire l'uomo è infinito l'uomo è grande e quindi grazie a tutti per essere stati qui grazie in particolare all'arcivesco Mario Calabresi Antonio La Sciarrone io vi dico solo che naturalmente naturalmente il podcast è podcast non riesco a dirlo anche io ho bisogno di revisione linguistica è ascoltabile sottolineano gratuitamente il che naturalmente non guasta su diverse piattaforme online e poi per chi vuole naturalmente si può consultare il sito scritti.luigi.giusani.org dove si possono consultare il senso religioso e tutte le opere di John Giussani grazie ancora a tutti buonasera grazie